Cioè, è proprio ritardatore, proprio nel sangue, c'è poco da fare, c'è poco da fare, il veleno è assai, è assai il veleno. Ma devi cominciare i film? Vabbò. No. Amore, e che cosa ti succede? Ma non ti posso lasciare un po' da assurdo? Ti lascio sano e ti trovo rotto. Che vuoi? Da me in caserma sono andata a sbattere contro una cancellata. E non l'hai vista? Tu si era cancellata, come la dovevo vedere. Pure tu. Mi piace? Andiamo a vedere il film, che sta cominciando. Sì.